Ciao ragazzi, mi è arrivato un pacco da scegliere Questa maglietta figherrima Questi sono dei pantaloni proprio fighi Guardate Asp Vi devo far vedere indossati però Questo top qua E questa collana alla Vivienne Westwood Questa è la collana e questi sono i pantaloni Fighissimi e adesso vi faccio vedere anche gli altri Questo è il top E questo è l'altro top Fighissimo